Ciao, sono Franco Torito Operatore. Come ti chiami? Eleonora. Da dove vieni Eleonora? Piacenza. Piacenza. Oggi il tuo tandem, il tuo desiderio, un regalo, cos'è? Un regalo di compleanno. Ma era una cosa che volevi però? No, era una sorpresa. Ah, quindi mi hai fatto scherzetta. E chi te l'ha fatto questo? Lui chi è? Il mio ragazzo. Ah, il bonifico che è arrivato prima era il tuo, allora quello... Ah, ok, ok. Quindi Matt l'ha pagato, ricorda? Ok. Quando pagano in più è per sganciare. Dai Eleonora, a parte gli scherzi, se andiamo nero ci divertiamo. Benvenuto al campo volo di Reggio Emilia e ci vediamo dopo. Ciao, cara. Ok, Eleonora sei a bordo. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.